Passeggia per le vie del centro storico con una roncola in mano, seminando così il panico tra i cittadini che lo incontrano. È successo ieri sera, l'uomo a retino trentenne, in preda ai fumi dell'alcol, si muoveva infatti nell'intorno di Piazza Grande, brandendo la lama di circa 60 centimetri verso chi stava facendo rientro alla propria abitazione, prima del coprifuoco delle 22. Immediatamente sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini della zona ai carabinieri. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Arezzo, così dopo averlo individuato con l'aiuto di una pattuglia della polizia di Stato, sono riusciti a bloccarlo, a sequestrare l'arma e a portarlo in caserma. Da qui, visto il grave stato di alterazione psicofisica, l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dal personale del 118, per le cure del caso.